Metti una mattinata a pulire il mondo. È infatti ripartita da Amandola la storica campagna nazionale di legambiente che vede protagonisti più piccoli impegnati a prendersi cura del territorio. Così, con il cappellino giallo in testa, simbolo dell'associazione e muniti di sacchetti e pinze, gli alunni delle scuole cittadine hanno fatto piazza pulita dei rifiuti abbandonati in centro storico. I stancabili hanno passato in rassegna vie, piazze e giardini pubblici. Abbiamo raccolto danno sporco, soprattutto a Piazza Alta. Però, sì, bella iniziativa. C'erano tante sigarette, poi c'era anche la carta della pizza. A Piazza Alta c'era un angoletto che c'era tantissimo sporco. Questa cosa ci aiuta anche a rendere il pianeta un posto migliore per il futuro. Fa tipo divertire e riguarda la pace. Perché è stato bello pulire Amandola soprattutto le strade. Vorrei rifarlo. Un vero e proprio momento di impegno collettivo che ha visto i bambini protagonisti attivi della salvaguardia del bene comune. Un momento essenziale anche per far capire che puliamo il mondo, puliamo le città. È un fatto di comunità. Tutti quanti ci dobbiamo impegnare affinché i nostri spazi, le nostre città restino pulite. Non solo vengano pulite, ma restino pulite perché è un fattore importante per noi, anche di tipo turistico, ma soprattutto di vita della comunità. Puliamo il mondo, giunta alla sua 32esima edizione, Adamandola ha anche approfondito il tema delle rinnovabili per favorire un clima di pace con un focus sulle comunità energetiche. Se insegniamo ai più piccoli il valore di avere rispetto della propria casa, della propria città e avere rispetto anche dell'ambiente. Così diamo una speranza in più ai nostri ragazzi in un'era del cambiamento climatico che ci impone di aiutare i ragazzi a costruirsi il loro futuro. E noi con queste iniziative in tutta Italia, in tutte le marche e oggi in Amandola vogliamo lanciare questo forte messaggio Puliamo il mondo per un clima di pace.